ok adesso stiamo registrando quindi metterò a disposizione la registrazione direi su youtube quindi qui resta semplicemente resta semplicemente le domande ok allora ridico due parole io all'inizio e poi andiamo avanti con le vostre domande quindi prima di tutto risposte di carattere generale e questi valgono per tutti gli appelli e tutti gli esami nostri c'è l'acronimo KISS vabbè diciamo che scherzosamente abbiamo messo keep it simple students nel senso cercate di non complicarvi la vita per implementare funzionalità che alla fine non sono richieste se avete un dubbio piuttosto chiedete noi non è che possiamo dirvi metti la cosa in alto a sinistra in basso a destra mettila di qua falla con un bottone più o meno queste sono scelte vostre però se c'è una funzionalità come dire dobbiamo fare in modo che si possa registrare un nuovo amministratore ecco sicuramente vi diciamo no non è richiesto se non è richiesto come dice la regla successiva se non è esplicitamente richiesto nel testo non è richiesto di implementarlo se avete un dubbio chiedete ma in generale questa è la regola se qualcosa può essere realizzato in differenti modi come è normale nell'informatica nello scrittura i programmi cerchiamo il modo più semplice che soddisfi le specifiche quindi non è detto che sia estremamente semplice però cerchiamo di nuovo di non complicarci la vita inutilmente in generale il metodo più semplice è quello preferibile perché è più chiaro perché non porta a complicazioni strane e così via le regole d'esame ce le avete sul sito sono aggiornate alla fine non le abbiamo più toccate quindi nel solito nostro sito mi ricordo qui ci sono tutte le regole d'esame come funziona è vero che sono in inglese se avete perché così sono allineate con tutti i corsi soprattutto quello in inglese e se avete dei dubbi su interpretazioni di qualcosa piuttosto di nuovo chiedete ok domande specifiche quindi queste sono già state poste su su slack e poi andiamo avanti con le altre di stamattina quindi stamattina ho fatto il clone quindi ieri fatto il clone eccetera quindi ha accettato il meccanismo è accettare l'assignment su github classroom quindi cliccando sul link che avete a disposizione è qui link per scheletro progetto e sottomissione poi siete autenticati su github nel browser quindi fate prima il login su github perché è più semplice cliccate vi viene fuori adesso qui non ce l'ho vabbè vabbè proviamo ad autenticarci così spero che sia giusta la passa ok va bene vi viene fuori che avete dovreste avere già il vostro account github collegato e quindi non avete bisogno di collegarlo al vostro nome perché l'avete già fatto per i laboratori se per il caso non aveste fatto i laboratori lo collegate al vostro nome che vi comparirà nella lista ok e dopodiché fate accetta l'assignment ora adesso questo account purtroppo aveva già l'assignment accettato poi l'ho cancellato eccetera per fare una prova che funzionasse tutto quindi mi compare questa finestra ma a voi non dovrebbe comparire ci fossero problemi mi contattate e vediamo di risolverli ok quindi questo è il meccanismo fate così vi viene creato automaticamente un repository su github privato che vedete solo voi voi singoli perché non lavoriamo più a gruppi questo è un assignment singolo per l'esame quindi solo voi singoli e in questo caso io e il mio collega Servetti e i docenti ovviamente noi non tocchiamo niente non faremo niente se non scaricare alla fine come da istruzioni quando consegnate mettete il tag final sul branch main e noi diciamo dopo la data della consegna scarichiamo tutto e ci guardiamo tutto quanto ecco questo è il vostro collega dice quando installo tutte le dipendenze mi dice 87 vulnerabilità 5 grave eccetera eccetera diciamo che non possiamo farci nulla questo nel senso che ovviamente quando scaricate questo repository è un repository molto di base ha un server express che non fa nulla se non accendersi quindi non ci sono root non ci sono pacchetti non c'è niente e c'è il il creator act app già fatto e quindi c'è il repository del client quindi ci sono due cartelle client server mi raccomando non cambiate nulla di questa struttura perché così ci semplificate il lavoro perché abbiamo uno script che ci fa npm install su tutti quanti eccetera ci lo avvia automaticamente non in rete è sul nostro computer dove andiamo a fare i test e quindi se ci avete cambiato il nome di qualcosa dobbiamo andare a mano e chiaramente con 100 persone che consegnano diventa un minuto diventano due ore in più ok quindi questo è il massimo il consiglio che ho dato potete ovviamente cancellare il node modus non ci sarà non deve essere consegnato al massimo potete cancellare il package json che viene ricreato quando fate l'npm install ma diciamo di quelle le vulnerabilità che sono presenti nei pacchetti non possiamo farci nulla nel senso basta che non usate pacchetti strani creati l'altro ieri da qualcuno che non sa quello che sta facendo ma se usate i pacchetti che noi abbiamo consigliato non c'è niente di cui preoccuparsi ok ecco queste invece sono poi domande un po' più specifiche del tema d'esame quindi tra le azioni dell'utente amministratore c'è la possibilità di visualizzare i risultati in questionario in particolare come si dice nel testo ci saranno funzionalità di navigazione precedente successivo per potersi spostare sulle risposte degli altri utilizzatori la navigazione riguarda solo la risposta singola o proprio tutto il questionario la risposta è tutto il questionario quindi si devono far vedere tutte le risposte del secondo candidato sostituendo la risposta del primo cioè quando io dico nel testo l'amministratore può visualizzare i risultati selezionando un questionario permette di navigare tra le risposte fornite dagli utilizzatori la funzionalità di navigazione precedente e successiva si riferisce all'utilizzatore quindi avete una schermata in cui ci sono tutte le risposte date dal primo next avanti quello che volete si passa al secondo poi comparirà un bottone avanti e indietro si passa al terzo al quarto fino a che non ce ne sono più ok e si può andare avanti e indietro come se fossero delle pagine ok di quel questionario ok ottimo sono presenti delle restrizioni tra l'altro dovrebbe essere più semplice questa è proprio una di quelle regole non è specificato non è specificamente richiesto nel testo di navigare sulle singole domande quindi cerchiamo di avere la soluzione più semplice perché c'è meno da implementare meno si implementa meno c'è rischio di sbagliarsi e prima si finisce oppure meglio si può testare e così via sono presenti delle restrizioni per quanto riguarda il DB o per quanto riguarda la scelta di come autenticare un admin io per esempio ho scelto email e password allora per il DB non sono presenti restrizioni lo create voi create le tabelle che ritenete che vi servono con le caratteristiche che vi servono chiave primaria che volete un ID l'auto incremento tutto quello che volete tra l'altro non dovrebbe essere così complicato creare queste tabelle perché insomma di solito i temi d'esame sono semplici con 3 o 4 tabelle ce la si cava praticamente tutti i temi d'esame non è un tema d'esame di database quindi DB libero solo fatto con SQLite 3 con SQLite poi la libreria fa lo stesso ma diciamo con SQLite perché così un file con mitate e noi lo scarichiamo è già tutto pronto non ci sono problemi funziona quindi non c'è da installare un database server creare le tabelle tutte queste macchinosità che portano via solo tempo e non aggiungono niente al nostro corso come autenticare un admin o chiunque adesso in questo caso nel nostro tema d'esame ci sono solo gli amministratori da autenticare ecco invece il meccanismo di autenticazione deve essere quello mostrato a lezione quindi deve essere uno username una password se non è specificato nulla lo potete scegliere voi va benissimo mettere un email e una password e poi il meccanismo deve prevedere l'http only come da specifiche questo c'è scritto non è nel testo ma ricordatevi anche questi sono requisiti di progetto dov'è che c'è scritto l'autenticazione all'utente log in e l'accesso alle API devono essere realizzate tramite password.js e cookie di sessione ok non è richiesto alcun ulteriore meccanismo di protezione oltre a quello dell'API nel senso che gli anni scorsi usavamo un altro meccanismo avevamo fatto vedere un'altra cosa eccetera ecco diciamo che per chi venisse dall'anno scorso non c'è più bisogno di usare il CSRF a parte che non era obbligatorio neanche l'anno scorso ma non c'è bisogno di anzi non si deve usare il JWT forse ci puoi una domanda su questa cosa e così via bisogna usare password.js perché ma perché diciamo ci semplifichiamo la 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 vita ok il nome dell'utilizzatore deve essere univoco ci possono essere più utilizzatori con lo stesso nome no non deve essere univoco ci possono essere più risposte indipendenti con lo stesso nome quindi nel momento in cui qualcuno entra sceglie un questionario risponde quella è un set di risposte che avrà in più anche un nome perché chiediamo un nome ma lì potete metterci quello che volete non c'è da controllare che sia unico eccetera c'è da mantenere solo tutte le risposte insieme perché sono state date da un certo utilizzatore infatti probabilmente cambieremo il nome non so se l'abbiamo chiamato no l'abbiamo chiamato utilizzatore appunto utilizzatore non utente perché non è che deve essere loggarsi non deve loggarsi sul nel sistema quindi non ha bisogno di fare autenticazione eccetera ok allora poi veniamo alle domande nuove quindi allora ho fatto un po' di copi e incolla della prima parte il nome dell'utilizzatore deve essere univoco ci possono essere più utilizzatori ah no scusate quella è la prima ciascuna domanda appartiene ad un solo questionario può appartenere a questionari diversi dello stesso autore o di autori diversi no ciascuna domanda appartiene a un solo questionario la cosa più semplice di nuovo ciascuna domanda appartiene ad un solo questionario adesso non so cosa avesse in mente chi ha scritto la domanda ma in generale diciamo ho capito forse dice vabbè io ho già fatto la domanda non so età no 010 1020 2030 eccetera eccetera magari la voglio riciclare in altri questionari sì per carità se vuole uno aggiunge questa funzionalità ma di nuovo se qualcosa non è specificamente richiesto nel testo non è richiesto di implementarlo quindi certo sarebbe carino un ideona va bene ma non è richiesto ok se uno la fa non prende punti in più e anzi c'è il rischio che se poi magari non funzioni magari si crea ancora dei problemi e se uno vuole rifare la stessa domanda la riscriverà quindi se l'amministratore vuole creare di nuovo la stessa domanda se la riscrive d'altronde è un tema d'esame un progetto che deve avere una complessità limitata se no passate tre settimane a fare il progetto di questo corso e non è non mi sembra neanche giusto ok ah vabbè ci arrivano anche le notifiche dell'altro l'altro corso ah io ho perso un momento farò attenzione a dove clicco allora le differenti opzioni delle domande nelle domande a risposta multipla appartengono sempre alla stessa domanda oppure anche a domande differenti magari in questionari diversi appartengono appartengono solo alla stessa domanda quindi è di nuovo come prima è una questione di mantenere il tutto il più semplice possibile si potrebbe fare tante cose carine ma poi diventa un tema d'esamone e non di esame non ci sembra giusto l'ordine di apparizione di tali risposte multiple prefissata oppure randomica ecco questa in effetti questa è da discutere discutere con i colleghi quindi sarà precisato in seguito io così a naso direi che può essere qualsiasi però perché di nuovo è una cosa non specificata però non vorrei che poi qualcun altro dei miei colleghi sugli altri due corsi risponde diversamente e poi si crea confusione quindi finito finita questa video chat che chiedo e concordiamo qualcosa in effetti questo potevamo specificarlo se era importante o no uno user quando crea una nuova domanda può eventualmente pescare da domande già inserite nel db diciamo sì ma non è richiesto quindi eventualmente di nuovo una funzionalità non richiesta ok quindi non è necessario il modello r e lo script di creazione del db va inserito nel progetto no no solo lo schema delle tabelle cioè come come indicato nel ritmi ritmi md no cioè nome e tabella e colonne non esiste uno script di creazione del db ma il db è già creato creato e deve file diciamo file SQLite e deve essere committato insieme al resto questo questo è il vantaggio di usare il SQLite è un file voi l'avete già creato avete già creato le tabelle avete già fatto tutto ci sono già i dati dentro eccetera committate il file avete consegnato anche il db ok punto fine non ci interessa il diagramma entità relazione fatelo come volete normalizzato non normalizzato cioè fate quello che vi pare non è il corso di database tra l'altro appunto normalizzazione vabbè si fa ma poi se in pratica c'è un motivo forte si può anche evitare di avere tutto normalizzato perché vuol dire fare più query più complicate e così via quindi vedete voi quello che serve e fate di conseguenza ok allora prendiamo le altre domande che intanto sono apparse allora aggiungo le domande precedenti quando viene salvato il questionario nel db ecco questo è interessante quindi quando viene salvato il questionario nel db alla fine di tutto il processo di creazione delle domande solo quando l'amministratore è in caso pubblica sì va bene così sì si potrebbe fare diversamente ma di nuovo non è richiesto ok è vero che potremmo salvare ogni volta che inseriamo una nuova cosa eccetera non è richiesto abbiamo voluto ottenere il meccanismo il più semplice possibile per non complicarvi anche troppo il tema d'esame quindi le azioni sono pubblicare il questionario non si pubblica la domanda non si deve salvare per forza la domanda poi se lo volete fare potete farlo ma di nuovo la soluzione più semplice di solito è anche quella che porta via meno tempo e che è più facile da implementare ok è vero che se uno si pianta il computer si ricarica la pagina poi sbaglio fa qualcosa e perde il questionario sì è vero ma diciamo state facendo un tema d'esame con delle specifiche limitate no perché perché se no ci implementiamo tutto il sito di Amazon o di Google Forms ma allora non mi bastano tre settimane ok solo le domande risposta aperta sono obbligatorie o opzionali è consigliabile tenere un campo chiamato obbligatorio nella tabella delle domande oppure è meglio verificare che meno uguale maggiore di 1 per dire che la domanda è obbligatoria allora no anche le altre domande sono opzionali o no a seconda di come impostiamo il minimo al massimo vedete c'era proprio questa nota apposta no allora sulle risposte aperta è scritto chiaro no deve poter essere indicata come obbligatoria o opzionale la risposta chiusa cioè multipla no bisogna poter dire qual è il numero minimo il numero massimo di risposte accettabili in fase di compilazione se no non si può diciamo compilare quella domanda si ritiene non compilata correttamente se voi mettete che il minimo è zero avete creato una domanda non obbligatoria ok quindi bisogna poter settare questo valore a zero e se facciamo così la domanda non è obbligatoria e poi col massimo decidete quante scelte possono essere effettuate quindi può essere una se mettete uno o più di una quindi scelta multipla nel senso che posso selezionare più opzioni se metto più di una ovviamente fino al massimo del numero delle risposte che ho inserito però questo minimo massimo è qualcosa deciso da chi crea la domanda cioè io creo quattro risposte e dico puoi selezionarne fino a due ok fatto questo e quella domanda sarà così e quindi chi compila potrà mettere fino a due selezioni ok quindi risposta no no anche le scelta multipla sono opzionali se min uguale zero e per il resto è consigliabile tenere un campo chiamato obbligatorio nella tabella domanda meglio verificare eccetera questo il resto ha scelta il resto fa parte a discrezione di chi implementa il sito il sito sì qui non posso darvi consigli nel senso che ognuno ovviamente perché ognuno deciderà cosa ritiene di fare nel senso vogliono fare il database in una certa maniera in un'altra eccetera fa parte di come decidete di svolgere l'esame cioè la soluzione al progetto dunque mi allaccia la domanda se Pippo compila un questionario potrebbe esserci un altro utilizzatore di nome Pippo per lo stesso questionario sì 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 e noi chiediamo solo il nome lo so che forse può essere un po' strano è come se consideratela come se fosse una domanda aggiuntiva un campo obbligatorio in cui bisogna scrivere almeno un carattere e poi che voi scrivate Pippo Pluto Paperino ABC e che qualcuno abbia già scritto ABC e non fa niente ok è solo un nome poi va mostrato quindi va salvato da qualche parte l'ho salvato da qualche parte e è finito ok quindi non c'è il nome dell'utilizzatore univoco anche perché averlo fatto univoco ci avrebbe complicato di più perché poi bisogna verificare se non era già stato usato quindi c'era un controllo da fare in più e decidere cosa fare se era stato usato e così via è un pezzo in meno da fare semplicemente lo prendete e qualsiasi cosa sia stato scritto ok se l'utilizzatore non ha un nome univoco e non deve accedere per svolgere un questionario come fa uno stesso utente a compilare due questionari beh quando quando ha finito ci sarà un bottone salva domande no quindi l'utilizzatore no inviato il questionario dopo aver inviato il questionario l'utilizzatore ritorna alla pagina principale no dopo aver inviato il questionario l'utilizzatore l'utilizzatore ritorna alla pagina principale se vuole compilare un altro questionario clicca no seleziona il questionario e compila di nuovo di nuovo le risposte e le invia ok quindi semplicemente vado e compilo un altro se voglio rimetto pippo se prima avevo messo pippo ogni volta che premete invia osservate un insieme di risposte al questionario che avete selezionato no perché c'è può essere più di un questionario quindi un utilizzatore può compilare più volte un questionario sì non c'è da gestire l'omonimia quindi adesso diamo un'occhiata alle domande per non rispondere quindi sì sì l'omonimia non è non è da gestire stavo ragionando su come farlo con 3-4 tabelle ma non sono sicuro dunque allora noi non è che possiamo dare risposte in questo senso sull'implementazione no quindi adesso leggo cosa ha scritto però non andrebbero gestite le risposte multiple con tabelle diverse e inoltre non andrebbero memorizzate tutte le possibili risposte molte per una data domanda differenziando per risposte aperte e chiuse si potrebbe semplicare mettendo tutto in un'unica tabelle risposte al massimo è una scelta vostra dunque al momento non c'è nel testo un massimo sul numero di risposte delle domande a scelta multiple stavamo pensando se metterlo o no perché qualcuno ho visto sugli altri corsi ha chiesto se c'era un massimo chiaramente se c'è un massimo vi potrebbe semplificare perché come diceva il vostro collega magari vi risparmiate una tabella nel database facendo un opportuno numero di colonne e così via verificate quindi quando facciamo uscire il testo definitivo dell'esame dell'appello del primo appello aggiorniamo questo testo se abbiamo messo questo massimo o no adesso lo concordiamo poi con i colleghi quindi questo massimo potrebbe semplificarvi un pochettino per quello che stavamo pensando se metterlo o no però l'implementazione sul lato database è vostra nel senso che anche con un massimo uno può decidere di farsi n tabelle che ritiene non c'è niente di male e quindi dunque l'implementazione l'implementazione e la discrezione dello studente quindi non è che non possiamo dare consigli anzi diciamo fa parte di quello che verrà un po' valutato non è che valutiamo come detto come avete organizzato il DB a meno di cose stranissime che non stanno né in cielo né in terra ma valutiamo il fatto che abbiate fatto un ragionamento che sapete giustificare le scelte che avete adottato e perché avete fatto questa cosa cosa pensavate di farlo siete coscienti dei limiti eventualmente e così via cosa sarebbe potuto fare eccetera cioè che vi siate posti il problema e comunque abbiate trovato una soluzione che soddisfa le specifiche ok consiglio di noto di memorizzare chi compila i form mediante una tabella apposita o esagerata essendo non univoco vi ho però il dubbio su come distinguere risposte identiche da parte di utenti con lo stesso nome ecco qui di nuovo la stessa risposta nel senso dovete capire un attimo che cos'è un cioè che cos'è un utilizzatore l'utilizzatore non so è il caso di farlo diventare un utente cioè non ha un appasso poi non è univoco il nome avete solo il nome per l'utilizzatore quindi in realtà l'utilizzatore è qualcosa descritto nel testo ma in realtà è un chiunque che faccia un click e salvi delle risposte con in più un campo che noi abbiamo chiamato nome dell'utilizzatore ma potevamo chiamarlo note avessimo chiamato note note libere sarebbe stata la stessa cosa magari confondeva di meno potete considerarlo così quindi l'implementazione la vostra discrezione appunto non deve essere univoco non c'è da verificare quello che c'è scritto cioè non il fatto che insomma visto che c'è da compilare che sia compilato quindi ci sia scritto qualcosa e basta quindi cosa salvate per identificare il set di domande anzi di risposte scusate di risposte ad un questionario nel database e sta a voi deciderlo ok quindi in pratica una volta che un username pippo compila il questionario non bisogna ricordarsi che quest'ultimo ha compilato i questionari A e B si ritorna alla schermata principale come se ricominciasse da prima la compilazione sì esatto esatto proprio così dovrebbe essere la cosa più semplice non vi spaventate che sia semplice abbiamo cercato di tenerlo semplice cioè il rischio di queste cose è che uno poi si faccia mille problemi e si complichi la vita e faccia due progetti anziché uno come complessità non è quello che vogliamo se volevamo una cosa la scrivevamo quindi se volevamo l'unicità eccetera la scrivevamo io inizialmente questo tema d'esame un po' inizialmente l'ho pensato io poi l'abbiamo ovviamente rivisto tutti insieme io avevo scritto unicità però abbiamo deciso di toglierlo per semplificare un pochettino ok e quindi dimenticatevi non è univoco non c'è scritto e non lo è non deve essere anzi sarebbe sbagliato che lo sia no perché non è richiesto non essendo richiesto se arriva Pippo e poi arriva un altro che si chiama di nuovo Pippo deve poter compilare il suo questionario è vero che poi non può rivederlo è vero che non si distinguono più eccetera però di nuovo non stiamo non vogliamo risolvere tutti i problemi che avremmo in un'implementazione vera come un Google Forms vero o qualsiasi cosa di questo tipo vero certo che in quel caso vorrei sapere chi ha compilato quando a che ora tutte queste cose ma vogliamo una cosa semplice limitata per l'esame perché se no poi appunto giustamente scrivete nel CPD che tra l'altro vi ricordo di compilare il corso da 10 crediti e non da 6 e non vogliamo questo perché giustamente il corso è da 6 quindi quando carichiamo un nuovo questionario su database è plausibile che si debbano aggiungere delle righe a più tabelle eh sì beh da qualche parte infatti l'informazione bisognerà salvarla facendo più richieste SQL bisogna gestire il caso in cui il server non risponde tra una richiesta e l'altra e quindi implementare una transazione SQL per essere sicuri che tutte le modifiche vengano fatte e nessuna di esse si può ignorare tale eventualità eh allora l'implementazione di nuovo è a discrezione dello studente ci si aspetta però cioè se vuole usare le transazioni lo fa se non vuole usare la transazione non lo fa eh non è che richiediamo la transazione ci si aspetta però eh che eh la diciamo conferma che il questionario sia salvato eh ci dica che eh diciamo tutte le domande sono state salvate eh arrivi solamente solamente se tutte se tutte se tutte le domande sono state correttamente salvate cioè fate come volete però eh se eh scrivete cioè se date l'amministratore fa cosa è che l'amministratore pubblica il questionario quindi preme un bottone pubblico un link pubblico non so quella che avete messo e non viene fuori attenzione c'è stato un problema ci si aspetta che tutto sia salvato nel database e quindi il questionario con le sue domande funzioni correttamente ok poi poi che l'abbiate fatto con la transazione abbiate inserito un pezzo un altro un altro con n query e abbiate semplicemente verificato che tutte siano andate a buon fine va bene lo stesso ok quindi non vogliamo non è il caso diciamo così che disfiate quello che avete fatto in precedenza eh se se vogliamo metterla così nel senso che se per caso qualcosa non andasse a buon fine vabbè e quell'inserimento ci saranno delle domande probabilmente collegate ad un questionario che non vedrà mai la luce perché in fase di pubblicazione c'è stato un problema vabbè è vero non è la scelta ottimale va bene avremmo se lo facessimo con le transazioni non si verificherebbe il problema eccetera però non l'abbiamo vista è una complicazione in più che aggiunge poco dal punto di vista di quello che vogliamo valutare per l'esame quindi non è il caso ok durante la compilazione del questionario come consiglia di gestire il salvataggio dei campi del form lato client considerando la dinamicità di numero e tipologia di campi non è definibile a priori il numero degli stati per i campi necessari sì però diciamo questo è di nuovo implementazione e descrizione dello studente va bene però diciamo mi permetto di dare non vorrei che poi qualcuno rimanga spiazzato è vero ho capito noi avevamo visto uno use state per ogni campo ok questo è vero bisogna fare attenzione come si usano gli use state quindi non è che posso metterli dentro i cicli for e così via questo va bene però nello stato potete mettere quello che volete incluso gli oggetti è chiaro che bisogna fare un po' attenzione ecco forse questa è la parte più difficile ok perché abbiamo visto comunque come si gestiscono degli stati che dentro hanno degli oggetti quindi in effetti questa è una parte un po' difficile però è anche una parte che abbiamo visto e quindi bisogna un attimo capire come come va implementata adesso appunto questo è il primo appello vabbè insomma giustamente qui insomma qualche consiglio mi sento di darlo cioè nessuno vi vieta di mettere un array dentro uno stato di un componente no? non c'è nessun problema bisogna solo fare un attimo attenzione no? e quindi è vero che è un po' dinamico questo sì ed è ed è forse uno degli aspetti in cui appunto si distinguerà un po' sulla valutazione dell'esame no? c'è chi l'avrà fatto peggio e chi l'avrà fatto meglio bene e così via no? sarà uno degli aspetti che andiamo a valutare questo sicuramente però non è che noi abbiamo visto il form controlled non è che vuol dire che c'è una use state per ogni campo vuol dire che c'è un qualche cosa nello stato che mantiene il valore dei vari elementi del foro se poi sono use state separati oppure tutto in un unico stato eccetera questo lo decidete voi ok? tra l'altro così non so se c'è qualcuno che segue che ha questa video chat che ha seguito l'anno scorso l'anno scorso le use state non ce le avevamo nel senso erano opzionali perché gli ux li abbiamo fatti ma diciamo opzionali non che quest'anno siano per forza obbligatoria quindi se c'è qualcuno che ha seguito l'anno scorso vuol continuare con i componenti di tipo classe può farlo ecco lo dico solo per gli altri la maggioranza quando fate componenti di tipo classe lo stato era uno solo non c'era n use state quindi c'era this state ed eravate voi che vi gestivate il cambio di un pezzettino solo dello stato e la stessa cosa vale per lo use state quindi a discrezione vostra dovete capire un attimo come fare ok c'è un limite previsto al numero di quesiti e al numero di opzioni dei quesiti a risposta multipla dunque no no per il numero dei quesiti verificare sul testo finale per il numero di opzioni come dicevo prima stiamo un attimo pensando se mettere questo limite qualcuno l'ha chiesto pubblicheremo una versione del testo aggiornata con in rosso le parti che sono cambiate e quindi se togliamo qualcosa ci mettiamo la righina sopra caso mai non credo dovremmo togliere qualcosa però se aggiungiamo qualcosa sarà scritto in rosso così diciamo chi ovviamente l'ha già letto si focalizza su fa attenzione alle cose che sono cambiate appunto se decidessimo si può assumere che il massimo numero di risposte per una scelta multipla sia non lo so dico un numero così 5 lo scriviamo e lo leggete lo trovate nel testo diventa parte delle specifiche chi vuole lo usa se abbiamo scritto si può assumere oppure se mettiamo si deve non credo ma si deve allora si metterà massimo 5 ok quindi verificate poi sul testo finale min può essere compreso tra 0 e max compresi ovviamente sì sì quindi se il vostro collega si riferisce nel testo a questo min max per la scelta multiple chiaramente se ho tre opzioni non è che ha senso che il massimo possa essere 4 no perché ne ho al massimo 3 il minimo è sempre 0 perché per fare la domanda facoltativa devo poter selezionare 0 ok dunque allora mi riferivo a questo database del progetto deve essere definito deve essere precaricato con almeno due utenti amministratori ecco sì questo questo il vostro collega ha fatto bene a precisarlo e in effetti questa è una parte che modificheremo un po' nel senso che appunto ci siamo accorti dalla domanda che ha fatto anzi dalle domande che hanno fatto ha fatto qualcuno nell'altro corso che effettivamente abbiamo abbiamo cioè confonde parlare degli utilizzatori quando parliamo del DB quindi questa la aggiustiamo un pochettino gli utilizzatori essendo che noi non li consideriamo utenti non hanno una password e così via non è il caso che stiano nella tabella degli utenti e quindi come si fa a tenere tracce dei due questionari noi non abbiamo bisogno di tenere tracce degli utilizzatori noi teniamo traccia solo delle risposte ai questionari tutte le risposte date da uno su una schermata che poi ha fatto invia o come è che l'abbiamo chiamato in si invia una volta inviato il questionario quelle devono stare insieme devono essere visibili insieme dall'amministratore quando va a visualizzare quando visualizza i risultati e quindi è come se ci fosse tutte le volte che c'è qualcuno che compila un nuovo questionario un nuovo utilizzatore ma non esiste l'utilizzatore nel senso di utente come l'amministratore l'amministratore è uno user e una password gli altri è qualcuno che ha compilato una pagina e ha premuto invia ok quindi i questionari e quindi la parte un po' poco chiara è almeno due utilizzatori che hanno risposto entrambi a due questionari e questo questo deriva del fatto che noi abbiamo messo questo nome quindi questa la chiariremo meglio questo aspetto sarà chiarito nella revisione del testo non è possibile sapere se sono gli stessi utilizzatori perché non si tiene traccia degli utilizzatori nel senso che il massimo che possiamo sapere è vedere che qualcuno ha compilato lo stesso nome ma visto che non è unico c'è ben poco da discutere questo è un aspetto che ci è un po' sfuggito quando abbiamo preparato il tema d'esame questa parlare con voi cosa che facciamo dopo la pubblicazione di ogni testo di ogni appello serve proprio per chiarire questi dubbi e eventualmente aggiustare le cose che sono poco chiare ovviamente noi avevamo un'idea in testa quando abbiamo proposto questa traccia però qui l'abbiamo espressa effettivamente male nella parte visualizzare i risultati è scritto che il numero di utilizzatori deve essere affiancato al questionario visualizzare il numero di utilizzo sì questa è un'indicazione di massima possiamo fare diversamente ma ovviamente la correzione tra le due cose a livello grafico sì diciamo che il layout diciamo che affiancato vuol dire messo vicino per affiancato si intende messo vicino in modo che si capisca la relazione tra il numero e il questionario nel senso che non potete andarmela a mettere tutto da un'altra parte su un'altra pagina prima ma anche nella stessa pagina farmi due tabelle diverse magari con la lista di questionari in ordine diverso cioè il questionario è non so uno due tre quattro e di fianco c'è numero di utilizzatori che vuol dire poi numero di quelli che l'hanno compilato cioè numero di sottomissioni anzi numero di invii di tutte le risposte e c'è un numerino no e in tre hanno fatto invio su quel questionario ci sarà tre ok quindi il layout diciamo di dettaglio può essere essere personalizzato nel rimanendo nell'ambito delle specifiche nel senso che affiancato non so fate la tabella o ce lo mettete a sinistra a destra non lo so a seconda di come avete organizzato la pagina anche però sia lì vicino non ok nel readme del repo è presente un link a uno screenshot che però a me non funziona non c'è un file perché non volevamo che poi finisse che che quel file cioè che nessuno poi lo cambiasse non sapesse come fare eccetera quindi era qualcosa di utile no diciamo è è da mettere però necessaria una versione mobile del progetto nel senso allora la versione mobile la separiamo allora sì il link nel readme non funziona così com'è non funziona deve essere modificato modificato per mostrare un per puntare puntare ad un immagine quindi esempio creando la cartella img e inserendo un punto png o jpeg dentro opportunamente modificando opportunamente il nome nel readme modificando opportunamente il nome quindi c'è niente di particolare potete dovete solo fare modificare quello che c'è già scritto creare visto che avete scritto mi sembra una cartella img se volete lasciare la cartella img la lasciate però la dovete creare oppure la mettete nella route dove c'è server client da qualche parte tra l'altro ecco per chi non conosce c'è qualcuno che ha scritto in chat sulla chat devo poi andare a vedere che di solito guardo su slack c'è in viso studio code adesso permette prendo questo vedete che c'è il open preview dovrebbe supportarvi direttamente la possibilità di mostrare tutto quanto adesso vabbè sto facendo vedere questo ha fatto qualcuno no se voi fate aggiustate quel link vi spunta l'immagine qui quindi avete la possibilità di vederlo direttamente tutto formattato bene ok perché ci serve l'immagine non è che vogliamo farvi lavorare in più ma solo perché poi siccome lo testiamo prima noi per conto nostro se ci viene fuori una cosa che non capiamo andiamo a dare un'occhiata all'immagine e vediamo se era così che doveva comparire oppure se c'è magari qualche problema c'è stato un problema con i vari npm install eccetera magari cancelliamo la cartella la facciamo reinstallare eccetera per verificare che quello che si vede sia quello che voi pensavate che si vedesse ok grazie quindi se ho capito bene pippo risponde alla domanda 1 del questionario ah scusate c'è ancora va bene è una versione mobile no no non è valutata la versione mobile non responsive chiamatela come volete non ci serve non è valutata non da punti in più come tutto ciò che non è richiesto l'unica cosa non pensate che noi abbiamo un monitor enorme senso provate a stringere un pochino lo schermo senza arrivare a diventare un dispositivo mobile ma ecco basta che non debba essere per forza massimizzato senza senza la massimizzazione non si vede più niente bisogna cominciare a scorrere a destra e a sinistra ma d'altronde ci sono poi quattro cose da mostrare in questo tema d'esame nel senso c'è una schermata è un po' come i task una volta che voi se volete organizzarlo così c'è un menu a sinistra e una parte dove si lavora a destra va bene basta che il menu a sinistra sia non so un 30% 20% della della pagina l'ho fatta in relativa e boh finito non c'è da farlo sparire riapparire secondo che stringiamo e così via quindi se ho capito bene Pippo risponde alla domanda 1 e al questionario 1 l'altro Pippo risponde di nuovo alla stessa domanda e allo stesso questionario non ci preoccupiamo di distinguere quali risposte siano il primo Pippo e quali il secondo facciamo solo in modo che l'amministratore sia in grado di vedere due schede di risposta al questionario corretto sì ma ma non è che le risposte sono collegate al questionario compilato questionario compilato quindi quindi quando l'amministratore e naviga con successivo precedente le risposte le pagine con le risposte le risposte dei questionari sul primo questionario dovrà vedere la risposta del primo Pippo primo Pippo e sul secondo questionario quella del secondo Pippo ok quindi non è che sono alla rinfusa nel senso io vedo tutte le prime risposte tutte le seconde risposte tutte le terze risposte di quel questionario vedo le risposte date da un utilizzatore quindi stanno insieme no abcd come se io avessi chiesto diciamo tutte risposte aperte per dire nome cognome numero di telefono indirizzo email no io le navigo ma vedo tutto quello che ha inserito il primo poi tutto quello che ha inserito il secondo tutto quello che ha inserito il terzo e così via non è che vedo tutte le email insieme perché sono la quarta risposta adesso guardo la quarta risposta la navigazione quindi l'amministratore che visualizza i risultati selezionando uno dei questionari quindi il questionario persone permette di navigare mostrando il nome dell'utilizzatore questa cosa che abbiamo detto viene inserita non deve essere unica seguita da tutte le risposte fornite quindi deve vedere nome cognome indirizzo telefono email poi clicca su successivo e vede successive risposte nome cognome indirizzo email eccetera del successivo e così via ok adesso ho fatto nome cognome indirizzo eccetera ma potete mettere data prima vaccinazione data seconda vaccinazione per fare un esempio in tema ovviamente come risposta aperta non c'è la domanda data quindi testo oppure non so cosa potrebbe essere quali sono i tuoi hobby domanda risposta multipla calcio tennis nuoto sci da 0 a 4 ok le cose lì sono da tenere insieme per ogni per ogni invio di questionario ok quindi avanti poi la formatazione è la giusto finito la chat ok pubblicazione questionario avviene nel momento in cui si crea il questionario sì sì fondamentalmente sì nel senso che non c'è un passo di creazione e un passo successivo di pubblicazione di nuovo potete fare quello che volete però non è richiesto anzi qui in realtà sembrerebbe un po' eccessivo far così perché in realtà si dice che l'azione è pubblicare il questionario non c'è una salvare il questionario quindi poi ci confonde un po' quando lo testiamo se facciamo salve ci aspettiamo che si pubblichi invece poi c'è un bottone pubblico che non ci aspettavamo o meglio pensavamo che il bottone che avete chiamato salva sia la pubblicazione eviterei di andare a complicare soprattutto distanziandosi dalle specifiche comunque qui la cosa è molto semplice cioè di fatto il bottone pubblico è un salva e pubblica insieme il minimo può essere maggiore di uno direi di sì il minimo può essere maggiore di uno io direi proprio sì nel senso che può esserci quello che uno vuole ovviamente il minimo deve essere minore del massimo questo non c'è scritto però mi sembra evidente nel senso che se no non è un minimo se io voglio esattamente due risposte scegli scegli quali tra questi due sport piacciono di più minimo due massimo due ok quindi sì se non teniamo traccia degli utilizzatori quando si visualizzano i risultati essi vengono indicati semplicemente con user1 user2 no hanno il nome no quando si visualizzano i risultati essi vengono possono essere indicati tramite il nome no che è obbligatorio è vero che può essere duplicato ma è obbligatorio ok poi nel db è chiaro che dovete inventarvi qualcosa per distinguere le varie compilazioni del questionario eh non penso che ci vada una scienza secondo me si può dire tranquillamente crearete un nuovo id ogni volta che c'è un nuovo questionario non è che c'è da inventarsi chissà cosa ecco come si crea un id quando si mette il task come si crea l'id va bene i corsi i corsi hanno già un codice quindi quando facciamo l'esempio dei corsi e lezioni erano già avevano già il loro codice però come vi creano una matricola quando vi scrivete al politecnico cioè creato un nuovo qualcosa di nuovo il database il database può darvi un identificativo c'è niente di male cioè quello che si fa normalmente quindi però non è che dovete inventarvi user 1,2,3 eccetera abbiamo messo il nome così che diciamo nella pagina sarà mostrato il nome dell'utilizzatore che è quello che ha inserito l'utilizzatore quando ha compilato il questionario è un campo obbligatorio campo di testo libero ma obbligatorio quindi c'è è vero che non c'è scritto obbligatorio ma c'è scritto l'utilizzatore deve inserire il proprio nome non può inserire deve inserire quindi se cioè lo user 1,2,3 o quello che si inventa in più non è necessario metterlo qualcosa che si è appunto inventato lei di troppo di troppo in più quindi è un'altra cosa che non che aggiunge l'obbligazione il questionario può essere eliminato dall'amministrazione non è richiesto queste sono quelle funzionalità un po' grigie nel senso che noi non ci aspettiamo che sia richiesto ok quindi io qui scrivo non ho scritto no ma ho scritto non è richiesto perché magari a qualcuno di voi non so visto che costa così poco se le si implementa l'API per cancellarlo perché mentre fa le prove gli viene comodo piuttosto che andare a editare il db e così via se l'ha fatto lo vuole consegnare può consegnarlo non è che ci offendiamo perché c'è un bottone cancella ecco però non è richiesto quindi fatelo solo se ritenete che vi torni utile sia comodo o per qualche motivo vostro ma noi non ne facciamo niente poi arriva anche la domanda sulla chat è un direct message quindi comunque la coppia alla fine ma possiamo un punto l'amministratore deve poter scegliere l'utilizzatore direttamente senza scorrere uno per uno con i tasti successivi precedente ad esempio da un elenco utilizzato che ha risposto a quello specifico questionario no non è richiesto di nuovo tra noi non è richiesto cambia niente nel senso cioè è chiaro che sono tutte delle buone idee sarebbe carino per carità però non vogliamo che uno si concentri sull'implementare le funzionalità appunto di questo tipo piuttosto che sbagli a gestire lo stato e così via no concentratevi su gestire bene l'organizzazione dei componenti le API le chiamate che vanno verso il server l'autenticazione tutte queste cose qua che sono le best practice è vero che sarebbe carino sarebbe carino che ci venisse fuori la lista tantissime cose sarebbero carino sarebbe carino che si potessero prendere le domande trascinarle a parte che non l'abbiamo visto però non vogliamo focalizzarci su quello perché sono aspetti di presentazione di interazione che non sono fondamentali noi abbiamo scritto solo che si navigano e quindi vabbè se uno clicca sul questionario vorrà vedere l'ultimo cliccherà su successivo fino a che esce l'ultimo è vero che non è un approccio che è il massimo se avete 5.000 risposte quindi però non stiamo facendo il sito per il 5.000 risposte con min 1 e max 1 questa è interessante con min 1 e max 1 come distinguiamo tra risposta aperta risposta chiusa obbligatoria risposta singola ecco diciamo che allora nella nella risposta aperta non mi aspetto che ci sia ogni tanto il touchpad prende clicca anche se non è non mi aspetto che ci sia una checkbox o simili di selezione questa è l'unica differenza effettivamente nel senso che se io implemento una risposta multiple posso selezionare o selezionare uno o più risposte ovviamente avrò dei checkbox ecco e e quindi dovrò cliccare quello che mi interessa inoltre la risposta aperta non è precompilata mentre la risposta chiusa chiusa sì ok quindi anzi forse era meglio scrivere il contrario comunque penso abbiate capito la risposta aperta è un campo e basta la risposta chiusa anche se ci fosse minimo uno massimo uno questo posso fare per forza cliccare c'è una checkbox e se non clicco non vado avanti perché minimo uno massimo uno possono essere più di uno ok però sono già precompilate cioè se io mettessi una sola risposta con la checkbox metto minimo uno massimo uno fondamentalmente un tipo di domanda che non mi serve a niente ma non per questo dovete escluderla di nuovo se no un pezzo in più un nuovo if un nuovo test da fare non so tra l'altro serve a niente non è detto tipo ho preso visione delle condizioni della privacy quella è la classica domanda chiamiamola domanda ma insomma cosa minimo uno massimo uno già precompilata e voi dovete cliccarla se no non andate avanti ok quindi quella ovviamente non è una risposta aperta quando cliccate lì più che cliccare non potete fare niente la risposta aperta è c'è un testo di domanda e c'è una casella dove scrivo la risposta ok inoltre la risposta è mentre la risposta è chiusa sì ok l'ordine delle domande viene gestito solo lato client deve esistere anche un campo nel db che ne identifica l'ordine di visualizzazione in quanto supponca una volta osservate le domande inviate sul db questa arriva in un ordine in cui sono visualizzate lato client e questa ha una sua supposizione nel senso che è richiesto e questa è una cosa che è richiesta richiesto richiesto che l'ordine delle domande presentate all'utilizzatore sia quello impostato dall'amministratore e l'implementazione impostazione e la scelta dello studente nel senso dovete decidere voi come ritenete di farlo diciamo che onestamente non ci vedo tanta alternativa al fatto che questo ordine da qualche parte dovrà essere scritto perché perché cioè se no per carità se avete un modo per fare in modo che il database vi restituisca sempre tutto nello stesso ordine può andare ma onestamente se non c'è un valore che indica l'ordine garantire questa cosa mi sembra un po' difficile ecco però questa è una considerazione di carattere generale quindi gestito lato client nel senso che fino a che voi non interagite sul database è chiaramente gestito lato client perché più che lì l'informazione non c'è poi però quando andate a salvare l'informazione anche l'ordine ci interessa e questo era scritto esplicitamente nel senso medio non così esplicitamente però è un requisito nel senso modificare l'ordine delle domande inserito vuol dire che questa azione deve poi essere permanente nel senso che cioè è inutile che l'amministratore faccia andare su e giù le domande e poi questa cosa non serve a nulla devono essere presentate nello stesso ordine all'utilizzatore ok questo è un requisito un po' implicito ma bisogna appunto capirlo dalle specifiche nel senso se c'è una funzionalità per per ordinare le cose bisogna che quest'ordine da qualche parte sia mantenuto appunto piuttosto chiedete se non so ci siamo espressi male che può anche capitare per le risposte aperte è previsto un numero minimo di caratteri per la validazione oppure andrebbe bene anche inserire un carattere nella texteria non è previsto un minimo è previsto un minimo specifico basta almeno un carattere ok poi textarea l'ha scritto lei nel senso per me è probabilmente una cosa che è ragionevole però non è che deve essere per forza una texteria è chiaro che magari su più righe è carino nel senso essendo una risposta aperta qui non abbiamo dato indicazioni specifiche questa è una di quelle aree grigie in cui però non è così importante nel senso volete farlo di più righe va bene volete farlo di una sola riga va bene ecco c'era c'era solo scritto massimo 200 caratteri perché perché vi aiuta magari col database è un po' più facile a gestire ha fatto una colonna 200 caratteri finito ok ecco per le domande c'è un max numero max di caratteri ha giusto scritto lei abbiamo appena visto sì è 200 sì per le domande dice non le risposte non l'abbiamo scritto diciamo ragionevole assumere 200 caratteri io mi sento di dire così mi consulto poi con i colleghi magari lo specifichiamo nel testo perché questa è di nuovo una cosa che può semplificare o meglio può complicare se non è se non è se non è specificamente detto perché uno si fa si fa i dubbi sì è specificato 200 caratteri ma è specificato per le risposte non per le domande quindi lo specifichiamo anche per le domande così stiamo tutti tranquilli e via anche se insomma comunque faremo dei test ragionevoli non è che ci mettiamo a incollare 10.000 caratteri di domanda insomma ok allora prendo ancora la domanda che mi è arrivata sulla chat in privato che non so perché sia stata mandata lì magari anche solo uno sbaglio però volevo chiederle allora se per quanto per quanto riguarda la UiUX dobbiamo pensare a noi c'è un modello di riferimento come nei lab no è da pensare è a discrezione dello studente ovviamente è qualcosa di ragionevole nel senso è un po' oggetto di valutazione ma non è che ci sia questa cosa da studiare no cioè abbiamo fondamentalmente fatto due esempi uno portato avanti a lezione uno l'avete portato avanti voi nel laboratorio una parte principale dove si svolgono le azioni si possono mostrare le domande compilare le domande e così via e magari una parte dove ci sono le azioni da svolgere che so in particolare per l'amministratore aggiungi domanda poi dovete vedere un attimo voi magari raggiungi domande è tipo il più dei task quindi si aggiunge sotto cioè un più alla fine delle domande aggiungine una non lo so vedete voi invece pubblica magari un bottone di lato o un bottone in fondo non lo so bisogna un attimo pensarci però questo è oggetto di valutazione nel senso punto ah no eliminare una domanda sì era questionario che non era eliminare una domanda quindi vedete voi nel senso forse non lo so sto ipotizzando perché non abbiamo pensato e ci teniamo che ci pensiate voi però potrebbe anche essere che insomma non c'è neanche un menu laterale nel senso che quando si entra un bottone aggiungi una domanda una volta che si è aggiunta una domanda la domanda un bottone elimina un bottone sposta in giù sposta in su non so in fondo c'è una volta che avete aggiunto una domanda c'è un bottone pubblica non so ecco bisogna un attimo pensare pensare un attimo come può essere l'interfaccia oppure magari ci sono dei bottoni laterali c'è una lista di domande se faccio più aggiungi domanda vado in fondo e mi compare una domanda vuota in cui devo selezionare il tipo e così via quindi la vostra scelta fate solo qualcosa che sia ragionevole no? provate a usarlo verrebbe da dire datelo a usare a qualcuno in famiglia che non come dire non è così come voi dentro il computer lo uso tutti i momenti eccetera se riesci a usarlo è un qualcosa di ragionevole se no forse l'interfaccia potrebbe essere fatta meglio non è che però noi ci focalizziamo in maniera così come dire specifica sull'interfaccia nel senso che se il bottone è a destra a sinistra basta che non sia una cosa completamente controintuitiva cioè che devo cliccare tre volte per raggiungere una domanda e non so neanche dove non capisco dove ecco però cioè questo aspetto è una volta fatto qualcosa di ragionevole non me ne preoccuperai troppo ecco dunque se comprese c'è un numero massimo di domande che possono essere inserita nel questionario forse questo l'abbiamo già questionario no 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 forse avevamo detto no nel senso che non è richiesto che si vada avanti al bisogno forse questo è uno dei pochi questionari quindi se uno vuole aggiungerne 20 ne aggiungerà è chiaro che non ci mettiamo lì aggiungerne 200 mila no perché però non deve esserci un limite a priori mentre parlavamo del limite sulle risposte del caso risposta chiusa perché perché magari vi può un po' semplificare la gestione del database per questo che ci stavamo pensando adesso mi consulto con i colleghi come dicevo e vi mando un messaggio su slack magari oltre che aggiorniamo il testo guardate quello che comparirà in rosso ed è una modifica rispetto a prima ok sembra che abbiamo esaurito le domande c'è più persone stanno scrivendo mi avverte slack va bene quindi aspettiamo un attimo forse non era singoli pazienza è dopo la giusta allora consiglio di partire sviluppando il front end o il back end ah che domanda questa è la discrezione dello studente nel senso non non diamo nel senso spero che a questo punto del corso vi siate fatti un'idea quindi nel senso che noi riteniamo che procedere come abbiamo proceduto nel laboratorio fosse ragionevole quindi abbiamo incominciato a imbastire un front end abbiamo poi realizzato l'API sul back end e poi aggiustato il front end per parlarci potete usare un approccio di questo tipo ecco l'unica cosa che mi mi permetto di consigliare non fate tutto front end poi tutto il back end e poi mettete insieme fate un pezzetto da una parte dall'altra lo mettete insieme vedete che funziona poi salvatelo committatelo se volete fate tutti i commenti che volete tutti i branch che volete l'importante è che alla fine confluisca tutto nel main col tag find noi quello che c'è prima non lo guardiamo quindi usatelo pure come il vostro repository github è il vostro repository github personale ci fate quello che volete se andate avanti pezzetto per pezzetto vi risulta un po' più facile debuggare e vi risulta anche più facile capire non alla fine se avete sbagliato qualcosa perché magari non so vi è sfuggito una certa funzionalità vi richiedeva una tabella in più sul db faccio un esempio e questo vuol dire che però quando faccio le query che ho già scritto devo andare a modificare farci una join fare qualcosa se ho scritto due API nel dao sono due da modificare se ne avevo già scritte otto sono otto da modificare quindi piano piano aggiungete i pezzetti e dovreste arrivare ad una soluzione ragionevole è già abbastanza testata quindi questo è un consiglio di carattere generale indipendentemente da questo appello cominciate a mettere su una schermata di base a definire una domanda a fare un componente che visualizzi una domanda magari gestendo l'informazione sul lato client e poi una volta che avete più o meno imbastito alla domanda vi siete fatti un'idea di come come si visualizza la domanda che alla fine è uno degli aspetti principali di questo tema d'esame tutto il resto piano piano lo aggiungete non è che dovete partire dal bottone che va su e giù nelle domande perché che sposta le domande su e giù quello si fa dopo così come non so qui cosa c'è si può fare il componente in sola lettura come è stato consigliato c'era suggerimento per riutilizzare i componenti usati per la creazione del questionario configurando i modalità sulla lettura quindi quando fate il componente per la domanda metteteci una property sulla lettura e verificate che funzioni così avete già il secondo pezzo funzionante se vi è sfuggito qualcosa non riuscite a mettere in sola lettura forse potete ripensare un attimo cosa avete fatto per la domanda quindi bisogna un po' gestirsela ragionando su quello che si sta facendo e costruendo pezzo per pezzo l'applicazione senza partire da vabbè se uno riesce si può fare lo schema di tutto secondo me serve questione di B eccetera però poi se ha sbagliato qualcosa c'è tanto da rifare se invece va pezzetto per pezzetto quindi frontend o backend entrambi nel senso magari una volta che ha messo a posto la domanda provi a fare il pezzetto che salva quella domanda nel backend e così capisce se ha dimenticato qualcosa se non riesce a salvare tutto come deve fare la tabella nel DB c'è qualche pezzo che potrei salvare diversamente non lo so ecco e poi piano piano ci aggiunge il resto quindi se ho ben non ho ben capito la risposta precedente in merito a min 1 max 1 avere questi due valori non bastano per determinare se una risposta aperta chiusa corretto no non bastano non bastano perché la la risposta aperta o chiusa è proprio una risposta di tipo diverso non bastano perché in 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 quella quella aperta il testo della risposta è libero in quella chiusa è touchpad chiusa è la selezione la risposta e la selezione del opzione che mi interessa cioè la risposta è già scritta in quella chiusa proprio la definizione di domanda risposta aperta o chiusa quando fate l'esame quando fate un esame vi dicono l'esame fatto a risposte chiuse non dovete scrivere niente dovete cliccare fondamentalmente no dovete selezionare qual è quella giusta o quali sono se ce n'è più di una in una risposta aperta avete una casella e scrivete dovete spiegare il procedimento la cosa insomma quello che viene chiesto approssimativamente quando sarà pubblicato il testo finale in pochi giorni sicuramente io direi dunque oggi è giovedì sicuramente diciamo massimo lunedì prossimo ma secondo me anche prima è solo una questione di quando riusciamo a trovarci per per discutere insieme il professor corno dell'inglese è già finito scrivo solo al collega sul ma sul sul è scritto del numero massimo di caratteri sulle domande quindi quando sarà pubblicato il testo finale diciamo nel giro di pochi giorni ok poi nella consegna è specificato che il questionario una volta inviato dall'utilizzatore non può più essere modificato però è possibile modificarlo magari andando avanti e indietro tra i vari requisiti prima dell'invio si può essere modificato prima dell'invio quindi attenzione però che questa cosa andando avanti e indietro nei vari requisiti è una cosa che si è aggiunto lei nel senso noi non abbiamo chiesto di far così e questa cosa complica un po' nel senso che noi non abbiamo problemi al fatto che la pagina scrolle in su in giù come i task avete 50 task e ci sono 50 domande andranno in giù però potete tranquillamente visualizzare tutte le domande sulla stessa pagina quindi così si avanza un avanti e indietro sulle domande quindi occhio a non complicarsi il tema d'esame da soli e quando non c'è bisogno viene valutato il numero di componenti ecco questa è una cosa interessante viene valutato il numero di componenti no non mi ha fatto qualche pasticcio copia viene valutato il numero di componenti nel senso facciamo due componenti uno per creare il form e uno per visualizzare e compilare no no nel senso si si può cioè il numero di componenti componenti è a scelta dello studente diciamo si valuta l'organizzazione complessiva del progetto nel senso ma come abbiamo sempre fatto nel laboratorio diciamo nell'esempio che abbiamo portato avanti a lezione è chiaro che non vorrei vedere tutto in app o diciamo due componenti e basta c'è qualcosa che non torna se ci sono solo due componenti è vero che non è particolarmente difficile cioè se sono due componenti devono essere fatti veramente bene e poi in generale non un componente di mille righe non è che aiuti tanto la comprensione e anche a voi quando lo sviluppate vi è sicuro che non è che sia il massimo scrivere il componente a mille righe quindi spezzettate gli elementi dell'applicazione in componenti secondo una logica ragionevole non niente di così complicato però cioè non che sia ben organizzato uno vuol fare che so adesso dico così non è obbligatorio ma tanto per dare delle idee uno vuol fare il componente risposta chiusa l'altro risposta aperta e poi mettere insieme a seconda di di che cosa viene selezionato i componenti che possono andare in sola lettura per visualizzare eccetera va benissimo uno può pensare di fare un componente unico domanda va bene importante che non diventi un componentone che fa tutto perché poi alla fine non si capisce più niente non ci capite più niente neanche voi vi assicuro mentre lo sviluppate finisce che ci sarà poi qualche opzione o modalità di funzionamento richiesta e io provo la sfortuna ci vede benissimo clicco subito su qualcosa che non funziona quindi una organizzazione ragionevole niente di complicato cioè componenti come abbiamo visto ci sono dei componenti di presentazione i componenti diciamo che hanno un po' di logica decidete dove mettere lo stato gli stati stati dei form ovviamente in un posto lo stato di applicazione e così via niente di cioè non dovete inventarvi niente di particolarmente nuovo dovete solo seguire le best practice cioè quello che abbiamo cercato di trasmettervi durante il corso dunque in appendice a quanto ho chiesto tolgo gli nomi ma se non vi dispiace diciamo prima io avevo inteso che il questionario visto dall'utente fosse una pagina singola navigabile solo su e giù non dovendo premere qualcosa per andare avanti e indietro rientro nella cene sì giusto esattamente infatti secondo me sarebbe anche la soluzione più semplice però se qualcuno proprio non vive se non fa avanti e indietro una singola domanda è anche una soluzione accettabile però però poi che so quando l'amministratore visualizza deve avere il bottone vai al prossimo questionario no non è che può semplicemente avere avanti come domanda perché il requisito prossimo questionario cioè il bottone successivo precedente successivo dico bottone ma può essere un link insomma qualcosa deve esserci perché questo è nel testo però se poi ha le domande singole deve esserci su giù vai indietro vai avanti un sacco di complicazione che si crea per niente secondo me quindi di conseguenza qualora la risposta sia aperta max va ignorato mentre min va utilizzato per determinare se è obbligatorio o no no allora ok che la domanda la risposta sia aperta non c'è scritto che alla risposta aperta sono associati il numero minimo e il numero massimo di risposte ok è una risposta aperta ci sarà la domanda può essere indicata come obbligatoria opzionale l'assunzione che sta facendo lei è che abbiamo il bottone cioè due campi due due qualcosa che ci consentono di dire minimo massimo anche per la risposta aperta ma non c'è scritto questa è un'assunzione che ha fatto lei perché mi è venuto fuori se gesti ok c'è questa cosa l'ha assunta lei qualora la risposta allora no la risposta aperta non ha un min o max associato ma ha solo un un'indicazione di obbligatorietà o meno quindi questa cosa qua l'ha creata lei non c'è nel testo il minimo e il massimo sono associati alla risposta chiusa la risposta aperta può essere indicata come obbligatoria opzionale punto la nota di prima che forse è quella che creava un po' confusione era era semplicemente per dire guardate che giocando con questi valori potete creare una risposta ma sempre chiusa che sia facoltativa obbligatoria e a scelta singola a scelta multipla ok la risposta aperta io quando vedo la risposta aperta onestamente non mi aspetto di vedere due caselline con scritto numero massimo numero minimo perché non servono a niente giustamente come dice lei cioè cosa serve il max max non serve più a niente mi aspetto di vedere un bottone una check post un qualcosa che mi consenta di selezionare se è obbligatorio o no punto a me non è tanto chiara una cosa quando si crea una domanda risposta chiusa il numero delle opzioni è variabile o è possibile assumerlo anche fisso no è variabile nel senso è variabile per ogni è variabile per ogni domanda una volta che l'amministratore però ha diciamo ha creato la domanda se non va a modificarla il numero di opzioni è indicato e diciamo è determinato quando viene meglio è può essere diverso diverso per ogni domanda risposta chiusa adesso vediamo se aggiungere il massimo come credo che faremo stavo scrivendo è determinato dall'amministratore insomma lì dovete un po' vedere non volevo dare delle indicazioni che poi sembrano obbligatorie perché l'ho scritta qui vedete voi come gestirla nel senso volete fare il più aggiungi un'altra risposta non lo so vedete come volete farlo voi qualcosa di ragionevole però ecco sicuramente ogni domanda è indipendente dalle altre nel senso che posso avere la domanda risposta chiusa con due opzioni e la domanda con cinque opzioni nello stesso questionario e ovviamente in questionari diversi e nel caso sempre prima io l'aggiungo a prima quindi scrivo qui intendevo nella pratica facendo tutto in un'unica tabella nel caso di una risposta aperta riciclavo l'attributo min diciamo l'implementazione è a scelta e come dire eviterei solo di si raccomanda di evitare un riciclo eccessivo che può non diciamo non intuitivo nel senso se lei ha una domanda risposta aperta mi mette un campo con scritto valore minimo che vuol dire nel senso se ne discutiamo tra noi eccetera va bene ma appunto prenda questa questa applicazione che fa la da qualcuno non capisce niente il computer gli dice adesso scompila crea un questionario e quello clicca crea una domanda risposta aperta e poi vede min e fa e qui cosa ci devo mettere se qualcuno mi dice qui cosa ci devo mettere vuol dire che non si capisce non è intuitivo ok ora senza arrivare all'eccesso che che tutto deve essere comprensibile eccetera perfettamente da chiunque insomma qualcuno che abbia una vaga idea di quello che sta facendo però diciamo cosa vuol dire c'è un minimo su una risposta aperta una persona normale dice vabbè sarà il minimo di caratteri perché ci viene solo uno ma cosa vuol dire zero cioè se c'è la risposta aperta deve esserci un'indicazione obbligatorio sì no può esserci minimo sulla risposta chiusa deve esserci scritto numero minimo risposte oppure risposte min max no qualcosa di questo tipo e lì si capisce perché perché ci sono di fianco c'è una lista min max ok nella creazione del questionario prima di pubblicarlo una volta che si è creata la domanda A e si passa alla creazione della domanda B è possibile tornare a modificare la domanda A ad esempio il titolo e le diverse opzioni sì il titolo è più che altro il testo della domanda e le diverse opzioni cambiando i testi oppure aggiungendolo rimuovendo opzioni oppure no e si può solo cancellare ricreare la domanda quindi creare modificare l'ordine delle domande eliminare pubblicare no non è richiesto ok non è richiesto si può se si può solo cancellare e ricreare e ho ovviamente se lo volete fare fatelo pure non è che è una cosa in più e vi penalizza ma come tutte non è richiesto non vi è da punti e l'unica cosa che può succedere è che poi magari non funzioni e non è che viene fuori una bella figura ecco se non funziona è vero che non era richiesto però diciamo che se il vostro problema è come faccio a editare una domanda una volta che l'ho creata e come c'è scritto cancello e la ricreo è vero che è scomodo ma è vero che vogliamo tenere il compito semplice ok qualcuno mi aveva scritto no allora è la stessa mi ha scritto in privato ma è la stessa domanda sul canale ok bene quindi direi che siamo a se c'è ancora qualcuno che sta digitando grazie per la risposta ok un questionario deve albera a meno avere una domanda giusto per chiarire giusto sì 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 questo in effetti magari lo specifichiamo bene mi sembra che sia una domanda uscita da anche su un altro corso sì perché è un questionario senza domanda ovviamente cosa fa l'utilizzatore mette il suo nome e finisce no quindi non ha tanto senso però è vero che è bene specificarlo nei requisiti mi sembra ragionevole specificarlo nei requisiti bene dunque quale sono cosa hanno scritto i colleghi ok bene non ci sono cose ovviamente ci possono essere domande interessanti se volete vederle sull'altro corso in italiano sull'inglese io adesso dunque il link a questo documento ce l'avete già quindi è già aggiornato in tempo reale magari l'ho formato solo un po' decentemente metto un po' di spazi tra le domande eccetera e magari vi metto anche o li fondiamo insieme i documenti con le domande degli altri corsi perché così leggendo le domande spesso vengono in mente delle cose prima di iniziare a risolvere il tema d'esame possono venire in mente delle cose a cui uno non aveva pensato e quindi potenzialmente può essere utile vi faccio avere il link le altre domande risposte sia per l'altro corso in italiano sia per l'inglese a parte il fatto che comunque su internet mettete cioè anche gli altri corsi hanno il loro sito quindi basta andare a cliccare lì però diciamo che se se vengono fuori io me le vado a vedere perché così evito di dare risposte diverse siamo tutti coerenti e se volete andare a vedere anche voi va bene seguite pure quello che c'è scritto anche là insomma se ci fossero casi di risposte differenti quindi interpretazioni differenti a parte nostra scrivete sul su slack e qualche maniera lo risolviamo ci mettiamo d'accordo e chiariamo come si deve fare spero di no di solito non succede ma insomma dovremmo essere a posto da questo punto di vista e eventualmente ci coordiniamo e cerchiamo di capire ok quindi ecco volevo farvi vedere ancora l'ultima volta è qui document vero no ho spostato so che vi come dire a fine settimana sarà finita questa storia vi ricorre il questionario cpd grazie a chi l'ha già fatto siete abbastanza ma non tantissimi possiamo andarlo a vedere direttamente forse ce l'ho pure aperto qui no usiamo zoom non ho ancora aperto il portale la didattica vi dico quanto siamo se il portale la didattica va veloce sì quindi siamo a 42% quindi grazie diciamo che se arrivassimo verso il 60% saremmo che più o meno la percentualità di tutti gli anni saremmo un po' più tranquilli se proprio siete in crisi almeno date la risposta dite non lo voglio compilare mettete scheda bianca non lo so che bottone ci sia però compilato nelmeno fate vedere che avete partecipato ovviamente verrà interpretata poi a livello globale come un mi interessa poco compilare questo gpd però almeno c'è una risposta che è sempre meglio di nessuno si è neanche preoccupato di provare a compilare chi lo fa potrà accedere a questionare post esame vi ho già raccontato che cos'è è una sperimentazione però insomma potrebbe essere utile potrebbe essere una cosa abbastanza innovativa e magari vi ritrovate nei corsi spero già dal prossimo anno se a livello di Ateneo si deciderà di proseguire quindi di estendere la sperimentazione a tutti i corsi dell'Ateneo cioè quindi di implementarla alla fine ok ovviamente è tutto in forma anonima quindi non c'è nessun problema a questo punto di vista va bene grazie per la partecipazione direi che possiamo chiudere qui non vedo altre domande su Slack e quindi se ci sono altri dubbi domande scrivete sul canale Slack esame 1 questionario come avete fatto stamattina che è la cosa migliore perché così manteniamo un po' separate le cose chi non è interessato a dare l'appello adesso al primo appello diciamo non si riceve le n.mila domande che giustamente potranno capitare va bene grazie a tutti in bocca al lupo per l'esame e ci ci vedremo a questo punto ci sentiremo a voce a questo punto direttamente all'esame grazie e a presto